Buongiorno a tutti, oggi facciamo i troccoli con ricciola, rape e tartufo. Vediamo gli ingredienti. La ricciola, il padello di tartufo, le cime di rape sbollentate, con le foglie abbiamo fatto una passata, pomodoro saltato e il troccolo fresco. Adesso andiamo a preparare il nostro fumetto di ricciola, a fiamma viva mettiamo la nostra ricciola, il padello di aglio, dell'alloro e andiamo a tostarlo. Una volta avuto questo risultato possiamo andare a sfumare, aggiungiamo dell'acqua fredda, andiamo avanti per altri 5 minuti. Adesso possiamo buttare la nostra pasta, in una padellina calda mettiamo olio e l'aglio, le nostre cime, il pomodoro, una punta di crema e andiamo a saltare. Adesso andiamo a mettere il nostro fumetto, il pomodoro, aggiungiamo metà della nostra ricciola, la pasta, la pasta, alziamo la fiamma e andiamo a mantecare. Una volta pronto possiamo andare a impiattare, aggiungendo il nostro tartufo, lo saltiamo. e il piacimento della ricciola cruda. Troccoli con ricciola, raba e tartufo. Grazie. Grazie a tutti.